Un sacco di dettaglio, la scena è praticamente riuscita, inoltre c'è anche la caduta qui di Tegole e il disordine. Ci sono le colonne, anche quando fate un mirror o fate un cut and paste, date movimento, date cambiamento nelle texture, perché se mi accorgo che questa texture è perfettamente uguale a questa, ho già fatto decadere, vi basta alla fine un po' girarla. Per cui, un altro modo di servire il vettore è che nelle fasi più avanzate è la rottura della simmetria, cioè togliere le cose ripetitive. Tenete anche conto che il nostro cervello è allenato per guardare le cose primitive, quindi lo percepiamo anche se non siamo dei grafici, è per chiunque veda l'immagine. Il cervello è tarato per, e lo vedete subliminalmente nella musica, il ritmo non è nient'altro che questo, cioè è gradevole quando trovo un disegno e una ripetizione, è capofonico quando non capisco dove stiamo andando. Quindi qui c'è la stessa cosa e ci sono nelle fasi successive anche la rottura delle simmetrie, quindi il non fare che ci sono la destra uguale alla sinistra, il sopra come il sotto, il cespuglio che l'avete replicato, va benissimo. Per velocizzare prendete questo e fate tanti copi, copia in colla in giro, ma ogni volta che fate un copia in colla giratelo leggermente, spostatelo dall'alto, riscalatelo, quindi basta un minimo di mestiere e potete introdurre cambiamenti senza grande fatica perché non ci interessano i sistemi dove la rottura viene fatta con eoni di tempo, ci interessano sempre i sistemi veloci ovviamente. Quindi ci sono tecniche che si chiamano distancing, metto uno solamente e tutti gli altri sono variabili. Quando si moltipliano le cose fate in modo che anche se la texture di Photoshop è la stessa, dategli un tono di verde diverso, basta questo a livello anche dei materiali e percepisco dei verdi più realistici, a maggior ragione il vettore è anche logica e matematica, non è quasi mai casuale, quindi se ho una chioma è più chiaro sul bordo e di meno verso il centro, ma ovviamente vale anche sull'orientamento della vegetazione, vedremo molto della vegetazione, quindi c'è un sacco di roba da dire sulla vegetazione, ma la vegetazione è quanto di più caotico mi posso aspettare, per cui devo introdurre all'interno dei grossi cambiamenti perché l'occhio umano è già predisposto a non voler vedere ripetizioni sulla vegetazione e non ce ne possono essere, avete mai visto due bonsai uguali? Quindi nulla è più deletero nella visualizzazione, ad esempio, di un viale architettonico dove si vedono filari di alberi tutti dalla stessa altezza, piantati ordinati, eccetera, eccetera. Quindi va benissimo misurare, va benissimo fare una scrivania, imparare sulla disposizione degli oggetti, ma poi disponeteli con il microfono inclinato e gli oggetti, cioè mai cose allineate o parallele, perché la realtà è caotica e dovete imparare a replicarla in questo modo. È caotica anche la ruggine e il disordine, i fori o le sporcature, c'è un vettore sul fatto che qui ce n'è di più e qui via via di meno e se io vedo che questi buchi sono fuori scala e sono fuori scala, questo è un errore, per cui per quanto realismo sono andato a inserire, poi cado su questa roba che o sono scrupolo due o d'altro, ma c'è un errore di scala, la percepite una certa, che cos'è, casetta da bambola, realistica, sto lontano, c'è, in alcune cose sono fatte bene, ma alcune componenti di scala, guardate che bello questo qui dei fili elettrici con un solo filo attaccato, insomma il disordine, si percepisce che il modellatore, per quanto avanzato e bravo, ha copiato vari pezzi dissonanti, ma non un unico soggetto e quindi di mestiere ha messo la rugge, le cose, eccetera, però non sempre in maniera logica, quindi va benissimo che certi cardi sono un pochino più scuri rispetto al resto, va molto meno bene questo bianco che sta qui sotto o questo colore chiaro qui e scuro sopra, in realtà è sempre il contrario, quindi c'è anche un vettore che ci dice che la parte più scura è in alto, scusate, la parte più chiara è in alto, viene dal sole dal cielo e mano a mano comunque per illuminazione ho un annerimento o un'ombreggiatura verso il basso. Poi, visto che sto lavorando con dei computer, sapete bene che questi, cioè i computer e i software ci mettono sempre delle ombre catrammose, cioè delle ombre che coprono cosa c'è sotto e invece le ombre lasciano sempre trasparire cosa c'è sotto e quindi siete voi che dovete dargli delle colorazioni sul grigiastro, basato sull'osservazione, non è certo il software che ve lo genera in maniera automatica che invece tende all'errore. Allora, a proposito dei vettori, cosa percepite? Questa volta il giallo e l'azzurro sono tra la luce artificiale calda dell'interno con il contrasto della luce esterna. D'altro sono anche complementari, sono tra i migliori cromatismi percepiti dall'occhio, ce l'è questo con il giallo che trascolora nel celeste. Probabilmente un po' perché ci ricorda il tramonto o comunque da un mood particolare, ma in realtà a livello fisico noi abbiamo recettori, quindi i nostri bravi coni e bastoncelli che percepiscono tinte oppure la colorazione molto spostata sul giallo. Quindi in realtà il giallo è il colore più percepito in assoluto in presenza di luce ovviamente. Non è un caso che il National Geographic ha una bellissima cornice gialla tutto intorno, perché è il colore più percepito, più visto. Abbiamo cellulette che vedono questa lunghezza tonda più di ogni altro, quindi sfruttiamo questa percezione. E qui si è dato un vettore di illuminazione dal centro verso la periferia che è proprio da manuale. È quasi geometrico e perfetto per come è stato realizzato e soprattutto guardate anche le cadute dall'alto verso il basso, guardate cosa succede in tipo in queste gole luminose o neon e guardate anche cosa succede da qui verso il basso, cioè il celeste chiaro che piano piano trascolora su un celeste più scuro, ma la stessa cosa la vedo qui dietro, la stessa cosa la vedo negli alberi, qui si percepisce un po' di verde, piano piano va via, la stessa cosa vedo in questo vaso e così via, anche sulle sedie, lo schienale lo vedo, vedo la seduta, piano piano mi perdo i dettagli. Quindi questi volumi adesso sono percepibili comunque, ma con la presenza del materiale molto meno, per cui se voi non li studiate e non li rendete fattibili al livello di assenza dei materiali, dopo non sono recuperabili, perché nessun grafico ad occhio umano può separare gli elementi. Quindi è una questione proprio di velocità e di praticità che utilizziamo pienamente, finché non troviamo un metodo ancora migliore o più veloce ovviamente. Poi ogni grafico delle luci ha delle preferenze sul tipo di luci che utilizza, ma vi dico che poi in realtà dei 5, 6, 8, 10 tipi di luce ognuno ha una, massimo due preferenze e con quello fa tutto. Anche perché è molto più veloce fare tutto con poco che industriarsi con roba che più o meno esce fuori controllo. Quindi un'altra cosa che si impara andando avanti è che il metodo e l'allenamento include che con pochissimi strumenti riuscite a fare tutto. Ergo, di un software, probabilmente 3D o 2D, un 5-8% è più che sufficiente per fare tutto e anche di più, soprattutto perché c'è un sacco di roba che non vi serve e soprattutto perché di molta roba imparerete a farne a meno. Cioè la imparate e la portate a un certo livello e poi vi accorgete che un altro strumento la sottende e lo eliminate. Per cui si impara anche a gestire la complessità con veramente pochi, pochissimi strumenti. Vedete che ZBrush ha centinaia di pennelli e poi alla fine ne utilizzate uno o due sempre gli stessi. Anche lì. Quindi di solito se sapete il mestiere la quantità degli strumenti non è così necessaria. Se invece non sapete il mestiere impazzite con questo cosa fa, il menu, ah bello questo effetto di passaggio, ce lo voglio mettere, ma non serve? No, ma io ce lo voglio mettere. Cioè cambia completamente il paradigma. Per cui non è un board processor un pacchetto 3D, non vi serve menu per menu andare a vedere cosa fanno, dove e quando. Ammesso che qualcosa vi servirà, ve l'andate a cercare dopo che avete capito il nucleo del 5%. E comunque sia non c'è nessuno che sa e che conosce i software di questa profondità e soprattutto se lo conosce vuol dire che non produce perché non avrebbe il tempo per fare le due cose. Soprattutto utilizza strumenti che non servono come la profondità di campo o certe robe che può fare in post-produzione. Per cui molta attenzione perché purtroppo dei metodi sono errati e a volte è anche difficile togliere dei vizi. Quindi è meglio non prenderli dall'inizio. Cioè quando si è preso la cattiva abitudine di mettere i materiali prima delle luci o insieme alle luci è un problema ripartire dal nude look. Quindi il consiglio è partire da questo perché questo vi assicura risultati ottimali in pochissimo tempo. Poi mano a mano aggiungete tutto quanto il resto. Non è importante, anche se vi trovate questo come vizio, disimparate questa componente, provate a dividerla e poi aggiungete tutto quanto il resto. Ma io penso che anche dal punto di vista della percezione capite benissimo che se dividete il problema complesso in tanti sottoproblemi siete molto più veloci a gestirli. E quindi come potete pensare che se mettete subito le luci, la trasparenza, gli specchi, i metalli, l'erba, il verde, il colore, il giallo, il pezzo di sole che lo è, avete già fatto l'illuminazione corretta. Non ci sono cervelli umani in grado di suddividere questo tipo di cose una volta che si è instaurato. E quindi noi lo instauriamo un po' alla volta. Ok? Questo è il modo corretto per farlo. Quanti di voi conoscono questa tecnica che si chiama HDR? Tutti. Perfetto. Questo è un software che gestisce l'HDR senza che fate l'HDR. Si chiama HDR Shop e si connette con tutti quanti più o meno i software, scusate Light Studio, HDR Shop fa un'altra cosa. In realtà queste macchie di luce le inserite voi e in tempo reale vedete sul rendering come appaiono queste macchie. Quindi l'HDR serve per dare molto realismo alla scena, ma la cosa geniale è che viene fatto senza inserire luce all'interno della scena. Quindi la mappa sostituisce tutti i concetti che con tanta fatica abbiamo detto fino adesso vengono fatti solamente da una mappa. O la generate in questo modo, oppure la si genera partendo da qualunque luogo, ad esempio andando qui fuori, mettendo un cavalletto con una sfera, a meno che non vogliate spendere un po' di soldini per un grandangolare spaventoso, basta fotografare una sfera che riprende perlomeno la metà del vostro ambiente riflesso e questo viene ripreso con solitamente multipli di otto, diciamo, aperture di camera, quindi shutter speed in gergo, quindi con l'obiettivo molto chiuso, quasi scuro, nero, poi piano piano fino al bruciato massimo. Queste immagini, solitamente da otto a sedici, ormai le macchinette digitali di ultima generazione ve lo fanno in automatico con dei softwareini, la bussate sul cavalletto e da solo vi fanno questo multiscatto con varie aperture. Si prende questa immagine, si chiama Super Tiff, è un pacchetto, questo si che si chiama HDR Shop, che è anche gratuito, vi assembla un'unica immagine. Sapete che cosa fa in realtà l'HDR tecnicamente? Perché è così potente e realistico l'effetto? Perché questa mappa è così magica? Al di là che è tutta la luce nell'intorno della scena. Esattamente. E quindi vuol dire anche in soldoni che io qui dentro al centro, immaginiamo che questa macchia l'ha fatto il sole, immaginiamo che questa macchia l'ha fatto una lampada che ho all'interno o all'esterno. Bene, al di là del colore, la mappa HDR, sapete che valore dà al centro di questo qui, del sole, dà un valore di 2.870.000 bla bla bla, un numerone che dice è la potenza del sole. Questo qui, che è una lampada tungsteno, umana, piccolina, dà valore 828. Quindi sono uscito dal range 0.254 dell'RGB, perché il colore c'è all'interno della mappa, ma c'è anche l'intensità. Ora, sapete benissimo che se voi andate in Photoshop e al software di post-produzione video, quando voi lavorate con l'RGB, se mi dimezzate le tinte o l'intensità luminosa, me le dimezzate in maniera lineare. In questo caso, se io dimezzo l'intensità luminosa di questa mappa, i 2 miliardi errotti diventeranno 1 miliardo errotti, ma la luce che era 80, 100, 800, diventa 400. Non è un dimezzamento lineare, perché anche se ho dimezzato la quantità, quella continua a essere una sorgente ancora potentissima. Di più, oltre a questa mappa del materiale, della mappa HDRi, il vostro oggetto o modello diciamo del vetro o del cromo, riflette anche il pezzetto di mappa che c'è intorno. Quindi la mappa HDR dà la luce, ma dà anche i riflessi, lo scenario, senza che voi rimodellate lo scenario. Una regola che è talmente basilare che l'ho data per scontata è che ovviamente tutti questi belli esempi e roba che abbiamo visto, tutti, 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 compreso questo, non avvengono mai su un piano nel vuoto, dentro un pacchetto 3D. Avvengono sempre dentro un cubo, dentro una atmosfera, devo avere un ambiente che mi fa rimbalzare i fotoni e i raggi di luce, sebbene matematici, sono ottici. Per cui non esiste che aggiungo un piano e ci butto della roba. In tutti i pacchetti 3D i raggi se ne vanno. Non vedrete mai Global Illumination, comunque non la percepirete totalmente, soprattutto disperderete un sacco di roba. Al peggio è la cupola celeste, ma non può essere virtuale, non basta una mappa HDR che mettete nell'intorno, la dovete mettere fisica, quindi ci deve stare un cubo, ci deve stare un telo, ci deve stare qualcosa che intercetta le luci, altrimenti si disperde in qualche modo. Per cui tutti questi esempi non sono mai fatti su un piano semplice. Non posso percepire l'intorno in qualche modo, anche quando è vuoto, ok? Per cui dovete sempre preoccuparvi di schermare, di chiudere le ambientazioni. E quando prima vi parlavo dei modelli che più o meno devono essere compliant, cioè funzionali, non parlavo solo del fatto che devono essere ben smuttati o d'altro, ma addirittura che non si compenetrino, soprattutto se c'è delle trasparenze o degli altri oggetti, non sono geometria buttata là, per cui se avete un vetro che entra in un altro vetro, il motore di calcolo impazzisce nel capire questo raggio luminoso come verrà interpretato. Quindi quando il materiale è piatto, fate come vi pare, ma quando i materiali cominciano a diventare cromo, vetro o d'altro, sono materiali superficiali, in alcuni casi anche volumetrici, quindi la sfera è vetro pieno. Se voi la intersecate con altri oggetti possono succedere guai. Al peggio in termini di qualità, ma a volte anche di tempo di calcolo. Quindi quell'immagine con un bicchiere con un liquido, se state attenti al liquido a fare in modo che segue il bicchiere, si accosta in maniera infinitesimale, ma mai lo compenetra, ci metterà i famigerati 6 secondi. Se voi in alcuni punti lo farete toccare, oltre ad avere degli artefatti, ci metterete 6 notti, se basteranno, 6 giorni continuativi. Quindi a volte i motori di renderi si inchiodano, semplicemente perché avete inchiodato la matematica che sta dietro. Sistemi di equazioni che continuano a dare soluzioni e roba vaga, il raggio continua a rimbalzare, il compiore non capisce mai quando chiudere il calcolo, oppure ne deve fare miliardi prima di capire che deve smettere in qualche modo. Abbiamo dei controlli per impedire che si vada in un loop contemporaneo. Ok. Però quando parlavo del controllo della geometria, in realtà per fare illuminazione c'è un sacco di roba anche in precedenza. Eccola la sfera HDR che riflette tutto l'intorno. A volte si utilizza una sfera da giardino, quindi in qualche modo da giardino negli Stati Uniti. Hanno delle sferne, nel senso che non si vendono da noi, quindi noi l'abbiamo acquistata. È una palla da bowling come dimensione, lucida, perfettamente lucida. Gli americani, bontà loro, utilizzano sopra delle bellissime colonnine per riflettere i più o meno micro giardini che hanno di fronte casa, come cosa d'abbellimento. Adesso c'è anche il buchino per metterci il treppiedi sopra poi per riprendere la macchietta fotografica. Però non ve lo vendono. Costa una fessantina di dollari. Se avete qualcuno che va negli Stati Uniti, se lo può far spedire anche tramite Amazon, per questione di fragilità, ma non neanche così fragile, perché comunque è dentro delle cose di bolle, lo potete farvelo acquistare o acquistare e poi spedirvelo, ma loro direttamente non lo spediscono. È la maniera più economica per fare HDR di un luogo reale, per dire fare la facciata di questo edificio senza modellare tutto intorno, vuol dire che non potete andare a prendere un HDRi da libreria. Quell'HDRi da libreria è Los Angeles di fine agosto, che ne so, di fronte non so a quale scenario, non è certo quello di qui. Quindi per fare esattamente l'illuminazione di un luogo dovete farvela, dovete avere l'HDR del luogo. La libreria è un mezzo veloce per più o meno fare della buona illuminazione, ma non può essere quella effettiva. Questo è come cambia la luce cambiando l'HDR, semplicemente. Quindi quanto potere abbiamo per fare questo tipo di cose e questo è come reagisce la pelle umana in un modello tridimensionale di HDRi o di altre mappe, per cui state vedendo mappe e modelli completamente 3D. Questa cosa della faccia piatta è dovuta alla scansione laser, per cui questo è 3D ma è acquisito con un laser. Domandatevi perché li vedete sempre con gli occhi chiusi. Perché il laser li accecherebbe in qualche modo. In realtà se li volete vedere con gli occhi aperti si fa questa cosa qui, poi si fa una fotografia senza laser con gli occhi aperti e con Photoshop, con Sun Photoshop si vanno a sostituire gli occhi aperti sulla mappa, non sul modello ovviamente che va un po' aggiustato. Comunque, allora l'illuminazione è affascinantissima, è molto più affascinante se ve la faccio vedere all'interno dei software, quindi nel mio caso ve la farò vedere con mental ray o se volete con v-ray all'interno di Maya mettendo questi pannelli direttamente nel software lunedì, ma poi se usate altri software potete utilizzarlo con tutti i software che volete. Voglio farvela vedere da zero quanto è veloce e facile gestire con due pannelli laterali e come vado a fare i volumi o a cambiare l'intensità. Questa cosetta che state vedendo è uno studio fotografico, però con una bella libreria, in questo caso in modo, ma avete l'equivalente anche dentro Cinema 4D, dentro 3D Studio Max, non l'avete solo in Maya, in automatico. In realtà è una libreria dove un utente si è fatto, si è modellato tutti questi elementi che voi vedete laterali. Quindi ha costruito la geometria e poi davanti ha messo anche delle mappe con Photoshop, diciamo librerie di mappe, quindi lui può cambiare anche l'intensità. La resa commerciale costa un centinaio di euro, per gli studenti ancora meno, si chiama Sleek per modo. Voi mettete l'oggetto al centro, guardate un po' cosa succede. Intanto ha anche delle mappe HDR sul set, poi ha delle lampade a tungsteno, eccetera eccetera. Questo è il limbo, la componente bianca che vi dicevo nell'intorno. Inserisce un qualunque soggetto, può essere un cellulare, possono essere dei vasi. Dopodiché va a lavorare sul posizionamento e in tempo reale vede il rendering. Quindi è uno studio in miniatura di come agisce un fotografo. Ma siccome il fotografo e la fotografia tiene conto anche del riflesso e del contributo di lampade e di apparecchi illuminanti, ecco che il modello o la texta che viene messa a fianco agli apparecchi, ha un motivo importantissimo per il realismo. Allora, anziché ripetere ogni volta da capo questo setup, visto che devo fare cataloghi, ad esempio di oggetti cellulari piuttosto che gioielli, faccio tutto questo lavoro una volta, magari da solo in piccolo, poi in grande, con queste librerie. Il bello di queste librerie in realtà è che non usano niente che non potreste farvi da soli, certo con molto più tempo e più rizia, guardate, addirittura di questi apparecchi con i cromatismi anche il braccio che lo tiene. Perché? Perché questa componente del braccio viene riflessa dagli oggetti di scena. E quindi in realtà anche, ne fate caso quando vedete delle bellissime fotografie di automobili, voi non state vedendo il cromatismo dell'automobile, state vedendo anche l'automobile con i riflessi del capannone industriale che c'è nell'intorno, se no non si potrebbe vedere la bellezza o la complessità, ad esempio, di una scocca o di un cromatismo. Per cui è fondamentale ricreare la scena. Non posso vedere il cromo di una rubinetteria, di un bagno, se ho messo dei rubinetti in un fondale nero. I rubinetti rifletteranno il nero. Al di là dell'HDR-I ho bisogno di immagini o del modello che c'è nell'intorno da riflettere. Quindi gli oggetti, soprattutto cromatici, sono anche funzione di quello che c'è nell'intorno. E qui, guarda caso, ho di nuovo un sacco di vettori. Intanto rispetto all'orizzonte, visto che ho un set. Quindi il set già mi divide il sopra con il sotto, mi dà un vettore che mi aspetto per interpretare l'immagine, che abbiamo visto nei disegni bambineschi di ieri, è già presente a livello inconscio. Quindi tutti cerchiamo per leggere un'immagine un sopra e un sotto. Poi, guardate le frange cromatiche, guardate anche l'highlight, cioè le alte luci, che qui sono massimali. Ok? La cosa interessante è che mentre cambia la posizione, ne può cambiare anche il valore assoluto di intensità, il colore, le mappe nell'intorno, eccetera, eccetera, per ogni singola lampada. Capite perché i fotografi sono molto preoccupati, perché quando vedono questo tipo di cose hanno molto paura. In realtà si continua a fare fotografia, per cui basterebbe loro imparare software di questo genere usando le stesse tecchie. Magari si spende anche molto meno, anche di energia elettrica, visto che questi sono fotoni virtuali che costano molto meno dal punto di vista dell'impronta di CO2, ma anche di bolletta, rispetto a quelli effettivi. Inoltre, il cliente non si sposta, manco il fotografico si sposta, magari lo fa a caso. Probabilmente il fotografico non ha bisogno neanche di grandi studi per fare tutto questo, quindi scavolini, sta utilizzando questo e non solo scavolini, perché può gestire con costi molto più ridotti e con estrema velocità il rendering. Ok. Quindi, come vedete, si imparano delle cose da zero, ne vedrete altre direttamente che faremo all'interno del software, però poi una volta acquisiti abbiamo un sacco di automatismi, una montagna di robe di cui queste comunque sono una piccolissima parte per gestire l'illuminio tecnico e lo rendering. Domande su questa componente, visto che stiamo andando avanti, sul realismo e su come arrivare a gestire questo tipo di cose? Sì. Quando facciamo un oggetto, questa stanza virtuale che dobbiamo fare intorno, quanto deve essere grande? Dipende dal soggetto. Quindi, se tu ti aspetti che quello che esce fuori è un cellulare ripreso da un normale fotografia da catalogo, come lo fotograferesti un cellulare? Dentro una stanzetta da fotografo con un ambito, delle lampade messe in un certo modo, ma solitamente un ambiente piccolo, o comunque delle lampade vicino, dei piani vicino che mi raccolgono la scena. Fai la stessa cosa, perché l'oggetto rifletterà la stanza piccola. Se ho bisogno di fare un'automobile, beh, la stanzetta piccola non basta più. Io prima vi ho parlato di capannoni industriali. Avete bisogno di tralicci, avete bisogno di aggiustamenti di scale un po' più grandi, perché l'automobile riflette una porzione più grande. Quindi, quello che c'è nell'intorno, in realtà, riflette la scala dell'oggetto, o quello che sarebbe la fotografia tradizionale. guai a fare il contrario, perché la scenetta piccola con il cellulare in misura da 20 cm o da 15, eccetera, messo dentro un capannone, ma la parte riflessa dal cellulare, anche molto lucido, del capannone sarebbe minimale. Quindi l'oggetto quasi non apparirebbe di dimensionale, ha dei problemi comunque di visualizzazione. Per cui, in realtà, quello che chiamiamo set fotografico lo dovete rapportare al soggetto da inquadrare. È ovvio che sto facendo una soffitta o un interno, un esterno architettonico, lì è più semplice, è esattamente il luogo. Però in quel caso, se è un esterno, ho bisogno di mettere una cupola. Nominalmente sull'esterno potrebbe essere anche a distanza infinita, cioè molto grande. La cosa importante è che io abbia anche un piano, quindi non ci siano cadute o mancanze di orizzonti, buchi. Per far capire questa cosa, noi diciamo che questi buchi sono una trappola per i fotoni. In realtà è così matematicamente. I rimbalzi della luce nella scena, quando trovano un foro, quindi avete messo un piano, ma poi c'è il nulla, c'è la cupola, ma la cupola non è continua, quindi anziché la cupola mettete una bella sfera, che vi fa già una parte sottostante, e intersecate la sfera con un piano. Questa cosa è perfetta, il piano è più grande della sfera, tanto il piano non sarà trasparente, quindi la posso intersecare con la cupola, può essere più grande. Avete già creato un set di esterni, me facendo questo tipo di cose. Quanto è grande la cupola? Beh, ovviamente sarebbe a distanza infinita, ma se il set include che ci siano delle montagne in lontananza, voi li potete mappare addirittura con un'immagine di montagne e per dare l'effetto del parallasse, cioè la lontananza, gli mappate un'immagine che è già sfocata. Se fate caso, quando vengiate in treno e vedete le cose più lontane, voi vedete un vettore di luce, per cui le montagne i terreni iniziali sono più nitidi. Mano a mano quando andate in profondità senza andare sulla pianura padana o da quelle parti, si perde e tutto diventa non tanto indistinto, ma un grigiastro, una monotinta, progressivamente più chiara in lontananza. Allora, o comunque più sfocata, non vedete i dettagli. Questo artificio lo potete rendere senza impazzire con profondità o da altra, semplicemente sfocando con Photoshop l'immagine di fondo. Può essere anche l'immagine di HDR questo. E avete fatto anche uno scenario come se aveste messo a fuoco l'oggetto e tutto questo partecipa, ma è distante in qualche modo. Quindi l'approccio è quello del set fotografico, sia di esterno che di interno. Cosa volete che l'oggetto riflette? Riflette il soffitto? State dentro gli interni. Cosa volete che l'automobile rifletta? Sui finestrini rispetto a delle cose? Ho degli esempi sugli automobili che ci è capitato di fare di roba e vi faccio vedere poi che cosa vuol dire il set di questo genere. Però vedo delle distorsioni. Ah, ok. Questo ve lo faccio vedere da zero come si fa sempre lunedì, tutto lunedì. Con RealFlow è una cosa di pochissimi secondi. Con gli emettitori e come si simulano questi tipi di liquidi o di cose, quindi si attaccano a 3D Studio Max, Maya, eccetera. In realtà questo è RealFlow e questo è sempre l'esempio dello studente di prima per la fontana, tra l'altro. Tra l'altro la bocca di leone è modellata in ZBrush. Quindi il resto è Max. Qui sono dei dettagli, delle temperature. Videogioco. Cosa notate? Che viene fatto un nude look anche a livello di videogame. Addirittura viene aggiunta un'altra mappa, qualcuno di voi avranno sentito nominare fino allo sfinimento, che si chiama Occlusion. Questa mappa la si vede anche qui, no? In nude look, senza i materiali. Qui la vedete? Beh, la percepite, ma non potete più osservarla. Quindi quando vi dicevo che sui bordi, l'orientamento, eccetera, eccetera, ci sono dei micro vettori anche sugli scalini. Quindi che cosa fa la mappa di Occlusion? Vi dice dove la luce è più o meno presente, molto presente, e dove viene occlusa geometricamente. Cioè si perde tutta, è bianchissima, vedete il materiale, o quasi tutta, o addirittura il buio dove non arriva per niente. Questo ci aiuta moltissimo a dare profondità ad una scena. E quindi in 3D la facciamo sempre calcolare. In realtà, ad esempio, purei o mentarrei, ve la calcolano, basta che mettete il check, la inseriscono. Il segreto però sta nel fatto che non ve la dovete far calcolare nel rendering finale, ve la dovete far calcolare come passo separato, in maniera che con Photoshop o After Effects ve la modulate. Quindi potete inserirla con più o meno potenza. Modulare vuol dire che con Photoshop, ad esempio, con l'effetto di blending, di mescolamento, puoi decidere quanto è forte questo nero, insieme al colore, o che tonalità dare a questi bianchi o a questi grigi. Per cui la si può cambiare grandemente. Se voi ve la fate già includere nel rendering, vi siete tagliati le mani da solo sulla possibilità di cambiarla. Quindi in realtà, Sun Photoshop rientra anche nella post-produzione, nel dividere gli elementi di rendering e nel rimodularli secondo delle zone o secondo quello che volete comunicare. Queste sono le temperature colore del sole rispetto di altre sorgenti luminose. E tenete conto che, ad esempio, in mental ray o in v-ray, noi facciamo il peak, quindi mettiamo la sonda. Cioè, come faccio casualmente a capire il sole piuttosto che la lampada florescenza che tipo di tono ha? Non posso andarci per tentativi. È un numero ben preciso. Per cui mettete il contagocce, chiamatela come vi pare, la sonda della selezione del colore, vi importate l'immagine photoshopesca dentro il software 3D. In alcuni software come Maya, se potete mettere due finestre separate, basta che potete accedervi senza crescere dal software e fate il peak del colore. Per cui utilizziamo queste cose per andare a piccarle, a sondarle direttamente. Guardate. Cioè, se voi non fate studio e nude look, una volta che avete messo il materiale, certo che lo percepite questo nero, questo occlusion, ma è percepito insieme al materiale, al comportamento del materiale. Quindi non potete vedere se è fatto bene o fatto male, quindi se c'è volume. Per cui, come se non bastasse, c'è un vettore da qui a qui, c'è un vettore da qui a qui e ci sono tanti micro vettori anche in questi scalini. Quindi anche gli oggetti di per sé stesso hanno dei vettori sulle superfici. Ecco che esce fuori un volume e c'è anche una rottura di simmetria. Per cui, anche se questa è una cosa fantascientifica, molto geometrica, guardate che l'inquadratura non ha messo al centro, ha spostato per rompere almeno la simmetria di vista, per cui avete un punto di fuga che non è il centro di schermo e mi aiuta a rompere la simmetria. Allora qui c'è un pannello o no, c'è una rottura sull'inquadratura di modelli che non posso rompere in altra maniera. La rottura della simmetria a livello percettivo è fondamentale. Provate a vedere cosa vi succede se vi mettete di fronte a uno specchio e mettete un altro specchio su metà del viso. Guardate un'altra persona, ma non siete voi. o a destra o a sinistra non siamo così perfettamente simmetrici. Per cui anche quando, ad esempio in ZBrush o in software 3D utilizziamo la simmetria e il mirror per fare contemporaneamente la parte laterale del viso, poi dopo, nella fase finale, la andiamo a rompere. Perché non può esistere un viso o un organico, una creatura che ha una parte uguale all'altra. ma disponendo della sfera da fotografare per realizzare una mappa HDR, esiste un modo per, tramite magari software, per simulare, per realizzare una mappa HDR e se ci puoi consigliare un sito che contenga delle mappe HDR e una incalibreria, eccetera, eccetera. Allora, se non avete una sfera da 30 cm va bene anche una palletta di Natale un po' più grande, quindi in mancanza della sfera andrebbe bene anche una palla da bowling cromata con la bomboletta, ma il problema è che è molto pesante, quindi in realtà deve essere più leggera. No, l'alternativa può essere un grandangolare, quindi è costosa per un certo verso, si è un fisheye, siti, siti ce ne sono tantissimi, se vi fate una ricerca come Free HDRI le trovate tantissimi. La cosa importante, alcuni li mettiamo anche noi costantemente sul link Facebook di quelle un po' più, diciamo, di qualità, e ci sono addirittura alcuni che sono animate, quindi c'è un HDR da mattina a sera, per cui voi potete replicare un'animazione semplicemente animando l'HDR, senza animare la sorgente luminosa del sole, mettendo l'HDR nelle 24 ore. E ci sono alcuni addirittura con le sorgente 50.000, quindi estreme, per cui se non avete almeno 32 o più giga di RAM non sono neanche gestibili. Però c'è di bello che se le scalate hanno un ottimo antializing. In realtà l'HDR meriterebbe anche, si fa anche con Photoshop, però la modifica dell'HDR-I, ad esempio l'eliminazione del fotografico che fotografa se stesso, o del treppiedi della macchina fotografica dentro... Ci sono dei software come appunto l'HDR-Shop o simili, che sono delle sorte di Photoshop avanzati per l'HDR. Peraltro, in maniera piuttosto errata, l'HDR-I lo si associa al 3D. Ma in realtà è una tecnica fotografica. Per cui esistono telecamere e macchine fotografiche, alcune delle quali molto costose, soprattutto telecamere da 100.000 euro, che fanno riprese in HDR direttamente. Cioè questo discorso che abbiamo detto delle esposizioni multiple, lo fanno a livello di acquisizione. Per cui l'HDR è una tecnica che vi consente di andare a casa della fotografia che avete preso e di cambiarvi dei parametri impensabili, a volte anche l'esposizione, cioè senza ripetere la fotografia. Quindi molto comune, perché potete modulare senza perdere qualità. Però in realtà il 3D se ne è impossessato. L'ha fatto un matematico che ha preso il corrispettivo per il Nobel per questa ricerca dell'HDR-I, che si chiama Paul Debrek. E c'è un sito, e c'è lo slovacco, poi, scritto proprio Deb-Vec. Ve lo faccio vedere. C'è un sito istituzionale, perché lui è il matematico che sta al centro di questa cosa. Ha preso anche una medaglia IBM per la ricerca scientifica, matematica, perché ha, diciamo, inventato questa tecnica. La cosa interessante è che c'è un aneddote di come è nata questa tecnica, perché si utilizzava già nei tempi degli ultimi film di Guerre Stellari per riprendere la luce di un set, fate conto, nel deserto, piuttosto che in altri ambienti, quello di mettere una sfera, di fotografare una sfera nel set, per capire, poi, sul video e soprattutto sul 3D, dove fosse il sole o le sorgenti luminose. Quindi quello che ha fatto Deb-Vec, in qualche maniera, è utilizzare queste informazioni per capire esattamente dove stanno le sorgenti luminose. Per cui nasce da un artificio cinematografico che si utilizza tuttora e poi è stata estesa, perché lui matematicamente ha dimostrato come la luce poteva essere esattamente riportata all'interno della scena e anche le componenti dei materiali, per cui l'oro rifletteva esattamente quella componente di ambiente come nella realtà. L'ho fatto per tutta una serie di materiali e la prova provata c'è in una ricerca particolare, dovete sapere che tutte queste ricerche scientifiche sulla computer grafica risiedono su dei siti molto particolari e c'è addirittura una pubblicazione, che è quella da cui noi abbiamo preso il nome in italiano, cioè Computer Graphics Technic and Applications, che è di una società che si chiama IEE, con 3E di Engineering, dove tutti i ricercatori inseriscono queste ricerche. solamente 2-3 anni prima che li vediamo all'interno di software 3D Studio Max, Maya o d'altro. per cui c'è anche un deposito di questo tipo di cose. il sito di Debrec ha un sacco di link a bellissime HDF, alcune fatte storicamente da Debrec stesso, questo non è un aneddoto, tra l'altro è verità, Debrec prova questa tecnica a San Pietro, quindi velocizza come funziona questa tecnica. C'è una ricerca, se me lo ricordate, poi vi dico anche dove e come riprendere il filmato, perché è molto fiat lux, molto divino, in realtà lui viene a San Pietro e dice che gli servono una settimana o due per fare le riprese di tutto San Pietro, per avere delle tecniche, per avere le mappe di San Pietro e anche la luce. Fa il nome di un cardinale, forse fa anche nome e cognome, in cui il cardinale ha detto tutta una settimana chiusa al pubblico, non esiste, non è mai esistito, eccetera, eccetera, non so se gli ha dato un giorno, ma mi sembra qualche ora, quindi gli ha ridotto proprio tantissimo la possibilità di studio, quindi lui si è, diciamo, ingegnato per dire come faccio ad acquisire in pochissimo tempo questa complessità e ha messo delle sfere riflettenti lungo il camminamento e le ha fotografate. Dopodiché è tornato a studio, ha sviluppato, ha perfezionato questa tecnica e ha fatto degli enormi, sapete che i ricercatori sono intelligentissimi dal punto di vista matematico, ma non sanno utilizzare questi software, quindi non sanno modellare, non sanno fare nulla di questo, quindi hanno preso dei monoliti di Guerre Stellarici, quindi delle enormi tessere da domino e le hanno fatte cadere dentro San Pietro, con una perfetta riflessione di tutto l'ambiente di San Pietro senza modellare San Pietro, quindi solo con delle sferette HDR che riassumevano struttura e luce. E c'è un filmato bellissimo, da questo punto di vista con una musica veramente da primo giorno della creazione, che sta proprio nel suo sito e dentro ci sono anche mappe e cose di questo genere, quindi ve lo indico volentieri, della sorgente prima, perché lui continua a fare ricerche e ultimamente sta portando l'HDR, per cui alcune cose che hai visto dell'umano, le sta facendo su una sfera di luce intorno a delle riprese di attori reali. Lo sta facendo. L'ha fatta a livello di ricerca e un sacco di film di supereroi hanno le controfigure 3D fatte in questo modo. Quindi sono praticamente tutta la serie di X-Men, Spider-Man, più che Superman o altro di ultima generazione, ci sono gli attori scansionati full body dalla testa ai piedi in 3D, compresa il loro texture, quindi la pelle, i difetti, eccetera, e con tecniche HDRI illuminati all'interno dei set. Il non plus ultra di questo lo fa Industrial Light & Magic con Transformers e lo fa con mappe da 8K di HDRI e quando uscì il primo Transformer era nitidissimo, c'era per la prima volta un'integrazione spaventosa, lo sono anche il secondo e il terzo come film, però Industrial Light & Magic è quello che ha portato più avanti questa tecnica e vi dirò anche che il bellissimo rango film 3D che R3 ha trasmesso qualche giorno fa è uno dei film più belli dal punto di vista tecnico del 3D e ILM, quindi non è Pixar o d'altro, è l'unica cosa che fa ILM, che è una casa un po' a parte, un po' come Pixar, diciamo che è la più avanzata nel campo fotorealistico, non cartoon. Bene, rango ancora non è superato nella perfezione delle texture. Avete visto che è un mondo di polvere tutto sporco e rovinato? Sono tutte texture e tutto rendering quella roba lì. Quindi è anche mappe HDR fuori, ma è a livello, cioè le bottiglie di vetro con le trasparenze rovinate, i personaggi e soprattutto lì fanno una tecnica particolare di animazione che non è motion capture. Motion capture metto una tuta a un attore e ne riprendo i movimenti che riporto in 3D. La tecnica si chiama e-motion capture, per cui loro riprendono Johnny Depp o gli attori reali e poi se li mettono dietro il pacchetto 3D tipo Maya per replicarne i movimenti. Quindi non è un'acquisizione, diciamo, automatica, perché molte case, come Industrial and Magic e Pixar, non credono in questi automatismi, cioè non vogliono la realtà perfetta, ma vogliono che gli animatori la interpretino, la esagerino, in qualche maniera e gli diano un vettore di comunicazione diverso. Ok. Se avete domande... Io volevo chiedere un'altra cosa. Sì. C'è sempre... Yuki, devi solo una bottiglietta d'acqua che... Sì. C'è sempre la questione dell'HDR quando si importa dentro una scena. Molta gente non sa che c'è il file HDR che è 32 bit e la stessa immagine in 8 bit JPEG. Molto spesso è più per una questione anche di hardware, ma molto spesso può comportare anche una perdita di qualità. Assolutamente sì. E quando parliamo di broadcasting, quindi di qualità massima, lavoriamo sempre a 32 bit. Qui ci sarebbe un discorso anche sui formati. Non si lavora mai in JPEG, quindi non facciamo mai texto in JPEG, che sono un formato distruttivo comunque. E soprattutto la domanda è pertinente perché addirittura non ci basta manco il 16 bit di profondità. Alcuni rendering vengono fatti a 32 bit. Quindi addirittura ci sono dei motori di rendering che consentono di fare il rendering in HDR. Quindi generano di essi stessi l'HDR della cupola o del rendering finale per avere maggiore plasticità in post-produzione. E comunque essendo il 32 bit la più alta possibile come qualità, solitamente lavoriamo solo a 32 bit e mai JPEG o comunque si TIFF perché è compresso, ma mai formati comunque distruttivi. In realtà c'è anche dell'altro, grazie. Non c'è solo la mappa HDR. Quando si lavora per fare la post-produzione o quando la si acquisisce, si prendono anche i plate. E anche alcuni di questi siti che vi indicherò vi danno sia la sferetta sia il plate. Che cos'è il plate? La fotografia frontale del dietro della mappa HDR e a volte è l'orizzonte al 360 della mappa. non sempre solo e soltanto ricavata dalla mappa ma una seconda ripresa che viene fatta sullo scenario. Questa cosa si chiama plate e l'oggetto 3D viene messo di fronte a quella fotografia come fondale e contemporaneamente usata la mappa HDRi per ricostruire il materiale. Quindi, esatto, è duplice la cosa. Quindi, è una tecnica comunque sia a sé stante che ci leva un sacco di crattacapi che però ne aggiunge degli altri. Non sono proprio un amante di questa cosa perché è il famoso bottoncino magico. fa sempre dei bei risultati, perlomeno accettabili ma se non è gestito bene fa anche un sacco di danni e per certi versi può essere anche più lungo a calcolarla. Preferisco l'approccio tradizionale e poi magari eventualmente integrarla. Quindi, ad esempio, un'altra cosa che facciamo è sempre per una bestemmia produttiva è che parto dall'illuminazione canonica con gli spot, eccetera la risolvo, vedo la luce nude look, vado a vedere l'HDR tolgo la luce base e poi la vado a mischiare. Cioè, in alcuni casi, diminuisco l'intensità globale delle luci che ci sono all'interno e comunque la inserisco fatta di mestiere non ovviamente in contrasto con l'HDRi però l'HDRi servirebbe a non mettere sorgenti luminose. In alcuni casi è necessario rinforzarla o dargli delle direzioni. L'altro problema dell'HDRi, enorme, ancora abbastanza risolto è che non produce praticamente mai ombre nette o comunque nitide e quindi dobbiamo rinforzarle con delle luci spot o comunque di altro genere. e quindi puoi portare il sole alla stessa posizione dell'HDRi Esattamente. Poi ci sono anche altre cose, per cui ad esempio V-Ray è estremamente lento in HD-Ray. Quindi, mentre dei software ambiasi, come Avion, Freerender, eccetera sono estremamente efficienti. Ci sono anche dei trucchi, per cui ad esempio si prende la mappa e la si porta dentro Photoshop o HD-Ray Shop e si toglie tutto intorno, meno che le sorgenti principali di luce per velocizzare i tempi di calcolo oppure un'altra tecnica che vedo fare per velocizzare i tempi di calcolo è sfocarla. perché il fatto che ogni punto è pixel a questa profondità con questi numeri enormi fa sì che aumenti i tempi di calcolo. Allora, il passaggio di qualità è subliminale per cui se la sfogo, riduco il dettaglio e la quantità di profondità e velocizzo senza praticamente cambiare la qualità. In caso io mi trovo in un interno nel caso che trovi un esterno per un interno per un interno non lì già cambia? Cambia molto ma io non utilizzerei mai e poi mai per gli interni ma per HDR quindi parliamo di un discorso per esterni perfettamente per gli esterni e lì andrebbe utilizzata. Per gli interni diventa già molto complicato e soprattutto molto lungo per via dei rimbalzi insomma lo si fa ma di mestiere se ho bisogno di riflessi di un certo tipo faccio prima a studiare il sole che viene fuori o d'altro per gli esterni è il suo per gli interni insomma sarei molto cauto Per far vedere anche fuori la finestra facciamo sempre una HDR senza mettere un plate Per gli interni si utilizza se non ti vuoi modellare tutto l'intorno o parzialmente modellare però è un po' tirato per i capelli comunque diciamo che gli illuminatori si dividono in due gruppi quelli che amano alla follia l'HDRi a me piace molto perché è un automatismo e quelli che la odiano perché ci arrivano senza capire quello che ho detto prima quindi sì se hai capito anche e se utilizzi anche la tecnica canonica no se la vedo come panacea che mi risolve tutto e così posso ignorare il resto perché in alcuni casi aumenta i tempi di calcolo di fattori 20 100 eccetera per cui non ha senso per cui bisogna vedere quando e come insomma per integrare fare un tipo di discorso sì ma insomma dal punto di vista dell'interno dell'illuminotecnica l'architetto vuole vedere giorni, notte vuole vedere roba misurabile con l'HDRi ho grossi problemi di misurazione in tutti i sensi per cui replica o quant'altro con l'utilizzo di software di questo genere questo è già un po' di più perché mentre cambiate la mappa vedete in tempo reale come cambia il rendering però è uno dei tanti modi di illuminare non può essere il solo mettiamola così infatti quattro anni fa cinque anni fa mi trovai a renderizzare una maniglia per non uscire pazzo con l'HDR ho dovuto inserire tante v-ray plane sistemarle spostarle inclinarle per dare il giusto effetto come questo certo ancora questi non c'erano comunque ancora adesso con v-ray con l'HDRi con i pannelli v-ray si è molto più veloce ed efficiente anche perché si possono bilanciare diversamente molto velocemente e lì la mappa tenete conto che la mappa hdr viene mappata su una sfera o su una semisfera il massimo che potete fare è girarla quindi cambiare l'orientamento o fare di questo genere e poi è anche vero che ci sono comunque vari tipi quindi bisogna anche distinguere con quelli a croce landscape aperte cioè quando si utilizzano i motori di calcolo bisogna anche andare a vedere che non ci siano distorsioni perché così si sbaglia il tipo di mappa sulla proiezione hdr esce fuori una roba se una robaccia poiché sia più o meno sempre gradevole ok però in realtà se lo guardate con gli occhi del vettore anche qua l'HDRi vi riesce perché guardate quante variazioni vi da su un cerchio su una portiera dall'alto al basso cioè enorme cioè la moltiplicazione dei vettori il problema è che ne ho anche uno scarso controllo quindi a meno che non ve lo facciate da soli e anche lì quando la fate alle nove di mattina alle quattro di pomeriggio sono due hdr diverse tra l'altro quindi comunque va saputa fare e va fatta secondo quello che vi occorre anche perché tutto questo era prima che pure introdusse softbox esattamente ad esempio si cambia enormemente si ma commentarei ancora diverso con Arnold è ancora diverso con gli ambiaset Maxwell e Arnold è ancora diverso paradossalmente gli ambiaset sono molto più efficienti quindi motori di calcolo come Arnold o Maxwell come Avion Ferrender e Maxwell sono molto più veloci a calcolare l'HDRi di Vray che è veloce in tutto ma sull'HDRi si abbiocca particolarmente in tutti i pacchetti per cui anche lì non puoi difendere Vray contro tutti perché ci sono degli aspetti che sinceramente non sono ottimali come tutti i software bilanci rispetto a quello che ti chiedono rispetto a quello che vuoi ottenere esattamente a volte anche per quanto è il budget per cui non è detto che ti viene richiesta o pagato la qualità massima perché devi darlo per semplicemente non lo non lo appli scusami se vuoi trattare il momento per farci quando ne parli ti volevo fare una domanda sui rendere in realtà lo dimmi tu se la si in realtà volevo una tua opinione riguardo a questa cosa siccome poi il prodotto ti rende a pass no? per vedere comunque subito diciamo l'immagine senza aspettare il budget perché la compenna per quanto riguarda il rendering tu ritieni che si arriverà un giorno al rendering in real time e basta e scomparirà praticamente il rendering come lo conosciamo ora anche se il render pass comunque un po' aiuta a livello di tempo diciamo a rendersi conto di come sarà l'immagine finale forse non si può dire ancora se scomparirà completamente non è che scompariranno le competenze quindi comunque anche solo real time dovremmo illuminare in questo modo o calibrare o partire dal nude look già adesso e anche all'interno di Maya o di altri software max compreso quando si utilizzano dei motori se si utilizza la GPU abbiamo un pannellino che in real time ci fanno vedere subito il risultato quello che succederà dipenderà dal come cresceranno loro in potenza di calcolo quindi la risposta è sì anche se non so quando perché dipende quanto velocemente questa potenza di calcolo sarà disponibile per tutti se già adesso e ve lo farò vedere da browser potete renderizzare cose molto complesse in real time in real time veramente intendo mezzo nanosecondo una cosa istantanea dipende dalla velocità di banda non dalla potenza della macchina quindi va bene per un portatile lentissimo così come una macchina non dipende dalla velocità del processore dipende da quanto velocemente si trasferisce la banda beh certo diciamo che cambieranno un po' di cosucce c'è sempre bisogno di chi decide se è fatto bene o no se che sappia in qualche maniera illuminare sono strumenti aumenteranno la nostra efficienza ma come sta succedendo e succede continuamente aumenta la complessità del rappresentato quindi i modelli diventano sempre più dettagliati ci stiamo approssimando sempre più a cose totalmente indistinguibili della realtà per cui toccherà vedere come costruttori di mondo che cos'altro inventeranno per magari anziché fare solamente una stanza facciamo un intero paese poi faremo un'intera città contemporaneamente magari semplicemente sarà che tutti quanti potremo esplorare qualunque angolo del mondo in tempo reale senza rendering semplicemente proiettato quindi toccherà vedere sono frontiere in qualche modo non cambia dal punto di vista delle nozioni e di come tutto si fa e infatti quello che stiamo utilizzando è quello che un fotografo sa benissimo che fa benissimo suddivide in qualche modo se non cambierà l'efficienza quindi si può durare molto più roba a costo molto più basso molto più velocemente per cui magari lo vedremo in molti posti più di quanto si faccia ora tenete conto che c'è un progetto di Google attuale che mettendo un tablet o uno smartphone come voi entrate in una porta deve essere in grado di fare immediatamente la mappa dell'ambiente di memorizzarlo in remoto quindi sull'overcloud e di dare un nome e un volto a tutti gli oggetti in maniera che voi in qualunque momento cerchiate le chiavi o un oggetto vi da la risposta di dove si trova quindi la potenza di calcolo sarà andrà di pari passo a applicazioni che adesso ci sembra di fantascienza e che invece già stanno facendo in qualche modo l'altra cosa in cui sono molto molto avanti è quella della micromedicina per cui sarà possibile mandare fare asimov il sottomarino in miniatura che va giù a esplorarci gli organi e soprattutto non tanto a fare delle riprese a intervenire proprio sul DNA dentro le singole cellule o reazioni per sistemare delle cosucce quello di cui ci hanno paura al momento è la perdita del controllo di queste cose perché in realtà lo stanno già facendo quindi già esistono delle micromacchine che vengono iniettate con una siringa in quantità di parecchi milioni nel corpo e vanno a colpire dei bersagli questo è il futuro se contemporaneamente potrò mandare anche delle microcamere per vedere per direzionare potrò andare a incidere sulla singola cellula tumorale a cambiare malattie che adesso sono incurabili o fare delle cose terribili cioè immaginate che macchine che vanno lì fanno una biopsia prendendo un pezzettino di fegato lo portano fuori lo mettono in cultura quindi lo moltiplicano adesso già lo fanno con la pelle lo fanno con alcuni tessuti non con tutti dopodichè accelerano con dei fattori particolari di crescita di cui tra l'altro la nostra grandissima Montalcini ha contribuito a scoprirlo quindi dei fattori che aggiunti maturano un organo in pochi giorni anziché in anni e poi togliendo l'organo malato pensate a delle metastasi cancerose che hanno invaso un organo quindi non possiamo fare più niente si toglie totalmente tutto e si rimpianta un organo che è fatto con le nostre stesse cellule quindi senza rigetto cioè vivremo fino a un par di milioni di anni no forse troppi ma qualcuno dice anche che in questo modo mille o duemila non sono così tanto fuori dalla portata cioè se continuo a riparare continuamente le cellule non posso arrivare all'immortalità assoluta ma mi posso approssimare con notevole perché noi abbiamo delle bombe a velogeria all'interno per cui il nostro DNA si replica e dopo n volte purtroppo perde progressivamente lo stampo se impariamo a fare in modo che questo non avvenga o a rallentare questo possiamo allungare la vita in maniera molto in maniera molto significativa però più che allungarla interessa adesso aumentare la qualità quindi magari è meglio che tutta l'umanità arrivi intorno agli 80-100 anni che sono una piccola parte che arriva a duemila o a cinquemila ovviamente però su questo grande ruolo guardate ci sono scenari apocalittici anche sulla stampa 3D perché il 3D c'entra perché questa roba qui e anche la stampa la facciamo solo con questi software se voi pensate che già allo stato attuale esistono delle macchine delle stampanti 3D che replicano loro stesse quindi si auto replicano senza controllo se li date ok poi pensate anche in un attimo che internet è esattamente la struttura di neuroni umana portata fuori quindi noi nel network non abbiamo fatto nient'altro che prendere i nostri neuroni e portarli fuori fare delle connessioni ci sono non so chiamate la coscienza ci sono delle delle teorie anche abbastanza accreditate che dicono che la nascita della coscienza all'interno degli esseri umani sia una una cosa dovuta alla quantità non alla qualità per cui noi possiamo avere degli scenari possibili e probabili in cui la quantità di conoscenze di interconnessione possa fare assumere coscienza a questo network questo è veramente apocalittico in qualche modo voi sapete che c'è un biologo che tra l'altro ha fatto un bellissimo libro che si chiama l'orologiario cieco che ha dimostrato che dalla dagli oggetti inanimati possa arrivare alla vita ha semplicemente messo le molecole di quello che si pensava fosse la vita qualche migliore di anni fa e le ha fatte stare in ampolla dandoci dando molta elettricità cioè energia lo scenario dei fulmini di un po' di tempo addietro bene dopo un po' di reterrazione tutti i chimici e i biologi conoscono questo esperimento sono comparse in maniera spontanea delle molecole organiche e la cosa interessante è che dopo altro po' di interazione hanno trovato in questa sorta di brodo bifordiale assolutamente chiuso quindi che non poteva essere contaminato delle tracce di diciamo oggetti inanimati che replicavano se stessi quindi c'è una sorta di auto come dire replicazione della materia che non per forza passa per un principio divino ok credenti pensano questo la scienza non può partire da questo tipo di cose e si prova a dimostrare che è possibile farlo questa cosa è preoccupante perché è possibile quindi dall'inanimato arrivare dalle protocellule o addirittura ancora prima delle cellule batteri o quasi i virus in qualche modo gli stessi virus non sono roba vivente non sappiamo neanche esattamente come come nascono ma comunque il virus di per sé stesso non è una cosa vivente in qualche modo eppure fa danni e si auto riproduce per cui ci sono scenari in cui si ha enorme paura che la conoscenza della rete e l'estensione della rete con la replicazione di questi macchinari sfugga al controllo semplicemente per cui la paura attuale è più fare invenzione e controllo dell'invenzione che il resto la grafica la potenza di calcolo eccetera eccetera c'entra moltissimo questi scenari perché i nostri padri i nostri nonni pensavano cioè stiamo vedendo una realtà che ci metteva millenni poi secoli per cambiare adesso sta avvenendo cambiamenti annuali mensili cioè una vertigine mostruosa di cose per cui non lo so quello che succederà gli scenari sono spaventosi però potrei parafrasare insomma Einstein quando diceva non so come si combatterà la terza guerra mondiale però sono sicuro di come si combatterà la quarta cioè con le clave perché la terza quasi sicuramente pensava che fosse nucleare io non so come sarà il futuro o che macchinario o d'altro ma sono sicurissimo che passerà per queste cose perché questi modelli 3D questi programmi 3D sono il controllo della realtà quando noi facciamo simulazioni liquidi cose ancora più avanzate e replichiamo la realtà in qualche maniera vuol dire che la sappiamo anche controllare e quindi si aprono scenari cioè come ci siamo arrivati ci siamo arrivati ci siamo arrivati sul fatto che la stampa 3D e questi tipi di scenario di calcolo non possiamo capire che cosa porteranno negli anni potranno velocizzare potremmo usare schede grafiche ma di sicuro utilizzeremo questi pacchetti stamperemo cibi ma useremo 3D studio max mettiamola così o pacchetto equivalente in qualche modo quindi la conoscenza adesso al via dei cibi è anche di oggetti inanimati ovviamente quindi conoscere questi software vi da un sacco di porte già ne stiamo aprendo tantissime ad esempio l'architettura con l'illuminazione ma adesso c'è molto altro ad esempio in medicina rispetto a altri campi allora perché andrebbe perseguita questa cosa della passione o della volontà di fare grafica 3D perché lo capite da solo che scenari apre ma vi posso assicurare che la richiesta di persone che stanno dentro a questo tipo di grafica non consente la disoccupazione non è una parola che esiste in questo mondo esiste la sotto occupazione o la male occupazione cioè l'occupazione pagata male però sono talmente poche le persone che se ne occupano però che comunque la collocazione è possibile trovarla in tempi ragionevoli a volte anche migrando ci sono una serie di discorse di cose da fare ovviamente però si trovano anche un sacco di opportunità ad esempio lavorando per architetti ho studi medio, grande o grandissimi di architettura io ho studenti che hanno iniziato qualche anno addietro e di cui posso fare nome e cognome e anche curricula che sono stati studenti normali di 3D e di architettura che sono finiti nello studio di Zadid che è uno dei massimi architetti il Rackera non so se conoscete almeno di nome che fa l'architettura organica e usava Lightwave dell'epoca per fare la replica di tensostrutture ora lo studente è un costruttore a Londra non si occupa più di replica 3D non so neanche io come ci siamo arrivati dal discorso ad altro però il 3D gli ha dato questo tipo di opportunità quindi quando avete il dubbio cioè sentite qualcosa che vi piace farlo trovate solamente se vi piace di più sull'architettura sul videogame o altri campi che stiamo vedendo ce ne sarà pure uno o più che vi interessano dal punto di vista conoscitivo se dovete scegliere fra due porte dove la disoccupazione una sicuramente c'è uno che vi da una randellata dietro la porta e un'altra dove forse c'è uno che vi da una randellata forse è meglio andare in quella dove forse e poi un sacco di professioni stanno cambiando difficile l'architetto al momento non può più presentare concorsi senza rendering ci sono comuni da noi ma vedo che stanno arrivando anche da voi e parlo di Fiumicino che quando voi vi proponete una variante esterna quindi non sto parlando di un comune che deve fare delle delle verifiche storiche no? mi deve fare una facciata ma non deve contrastare il Colosseo sto parlando di un comune che comunque sia dell'Interland che non ha tutti questi beni eppure vogliono il rendering il catastro vi chiede o l'ufficio proposto all'accettazione vi chiede il rendering della facciata che deve essere modificata o della ristrutturazione quindi sta diventando legge la produzione di questi elaborati l'architetto vi dà indicazioni ma quasi mai l'architetto si mette lì e fa i rendering non è il suo mestiere ha bisogno di visualizzatori comunque sia o comunque lo sa gestire deve mettere delle persone ok? questo per dire una realtà locale ma le sigle televisive gioielli ci sono campi adesso la medicina che vi farò vedere non è che ci sono campi ci sono autostrade ci sono cose ci sono anche robe visto che c'entra anche col seminario in cui potete diventare imprenditori di voi stessi inventatevi delle cose se siete bravi in 3d e potete fare delle miniature allora potete fare uno più uno un imprenditore tra l'altro del nord Italia Torino mi sembra si è inventato il regalo da 100 euro dove voi gli comunicate la fotografia il viso frontale dell'amico a cui volete fare il regalo e vi da la miniatura col viso dell'amico e gli dite si ma il mio amico è un esperto pescatore bene con ZBrush fanno una caricatura di un pescatore in miniatura e mettono il viso del vostro amico e questo non sta presso alle richieste è una cosa terra terra comunque un'idea minima però non c'era nessuno che in precedenza lo proponeva fa un sito non c'è manco un laboratorio un luogo quindi somma fa uno più uno e si inventa un prodotto che precedentemente non ne avevamo bisogno manco sapevamo che esistesse quindi ci sono un sacco di modi per fare per fare industria e dovete in qualche maniera conoscerla non è un caso che un genio come Steve Jobs fonda Pixar cioè ma che c'entra Apple col 3D? niente praticamente eppure lui è un cofondatore perché capisce mentre fa computer tenete conto che lo cacciano pure Jobs fonda un impero che ancora non ha non sappiamo neanche quanto sarà grande quindi non so come sarà il futuro ma probabilmente avrà il marchio di Google o di Apple o di Samsung questi qui insomma o di Microsoft però lui capisce che ok il 3D non lo gestisce non gli serve fa computer ma e fa Pixar la prima società che farà un film totalmente in 3D cioè vede da visionario che tipo di sviluppo questo tipo di cose avrà ed è un visionario spaventoso per cui avete all'interno di Apple un'anima legata al 3D e questi che fanno? un design pulitissimo fanno prototipi tutte le società da scavolini a il design di cellulare hanno bisogno di modellatori e di gente che fanno prototipi in 3D per cui ci sono un sacco di industrie che vi richiedono come ricerca e sviluppo cioè di laboratori che producono robe che noi manco sappiamo scarpe cristalli su pellettili però di sicuro hanno bisogno di qualcuno che fa rendering che prova le cose prima di realizzarle e dopo che le avete realizzate ha bisogno anche della stampa non so se intravedete non pensate solo all'effetto o al film quello è una cosa già la cuspide della piramide la cima ma in realtà sotto è enorme il tipo di cose che si possono fare si possono rappresentare in 3D facciate ma le posso mettere in un'app e mentre mi ritrovo di fronte alla chiesa mi ci muovo oppure vedo come era in età romana anziché vedere solamente gli studi sotto visto qui la necropoli immaginate un 3D che viene calcolato in tempo reale sopra la necropoli e voi vedete sul telefonino com'era mille, duemila cinquemila cinquantamila anni fa noi che abbiamo il 20% del patrimonio artistico mondiale ok quindi questi strumenti hanno bisogno solo di trovare persone intervendenti che lo leghino a cose che già esistono in qualche modo gli americani ci danno la tecnologia ma non hanno questo tipo di cose quindi queste cose si possono legare in qualche modo ci siete? queste cose in 3D chi le fa? le fanno sempre gli operatori e i visualizzatori lo fanno architetti specializzati lo fanno persone che comunque sia si occupano in questo campo ci siete? non mi fate parlare su quello che può essere la cosa perché ci portiamo su cose però interessantissimo il rendering e i volumi guardate un po' quanto sono gradevoli anche sui cartoon sugli umani e sul realismo ma anche quando li vedete all'interno del film percepite i vettori? come dico gli studenti guardate un po' l'occlusion che c'è qui dietro sotto il nero avete mai visto che questa cosa sferica del mostriciattolo sia invece dovuto al fatto che qui c'è un highlight anche qui una molto qui c'è dell'ombra e della penombra e questa semisfera più o meno arrodondata questo volume 3D esce fuori perché i discorsi di luce posizionamento e quant'altro vengono fatti o velocemente o da accademia ma sono sempre presenti altrimenti non li potete percepire così 3D o così volumetricamente intanto vengono anche fatti rispetto a un punto di vista non è che sono a sé stanti dovete sempre prendere in considerazione da quale punto si inquadro quindi dove sulla telecamera o sulla fotocamera virtuale c'è tantissimo perché poi è da lì che passano i raggi luminosi ovviamente e su quella direzione vado a mettere tutto quanto il resto guardate il 3D di questo elemento intanto guardate anche il disordine questo è piegato in questo senso questo nell'altro questo texto è consumata e divertitevi a guardare i vettori sparsi addirittura il fuoricampo che c'è qui la sfocatura di fondo quindi sono dei vettori anche sulla messa a fuoco il soggetto messo a fuoco fuori fuoco il dietro ma notate che c'è un fuori fuoco anche sul davanti quindi i piani di messa a fuoco sono centrali e non mi basta il fondale per mettere a fuoco ho bisogno anche della parte anteriore quindi soprattutto che adesso si fa anche il 3D con gli occhialini i rendering ne vengono fatti il doppio vengono sdoppiati anche da questo punto di vista e chiedetevi perché gli ultimi film total 3D sono piene di roba aerea da app a scendere compreso i supereroi compreso Avatar trovate un sacco di voli pindarici di gente che si butta nel vuoto perché con gli occhialini 3D è l'effetto più emozionante quindi volente o nolente in qualche modo questa cosa della caduta l'hanno messo tutti i film 3D o anche in parte c'è sempre qualcosa che cade da qualche parte o che ci si butta o che vi fanno vedere da quel punto di vista con gli occhialini la caduta dell'inclusività è totale ovviamente per cui la inseriscono all'interno il discorso è se lo fanno i grandissimi chi siamo noi per non fare lo stesso ovviamente quindi riprendiamo queste tecniche semplicemente da chi le utilizza già da un pezzo non c'è una pausa? o volete vedere già con l'animazione o cose un po' più avanzate? facciamo pausa facciamo pausa ok grazie 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 grazie